L'aspetto mentale, vale a dire tenace e sacrificio, la gran parte delle volte risulta determinante ai fini del risultato finale. Un concetto che può essere ripreso quando ci si ritrova davanti a delle sfide sportive, ma anche come in questo caso, quando si è di fronte ad un bivio che potrebbe stravolgere la propria vita. È il caso di Giuseppe Adragna, podista amatoriale di 61 anni, cresciuto a Pesaro ma originario di Trapani, che nell'agosto del 2022, nel corso di un allenamento, avrebbe avuto un calo improvviso di energie e forze, fino a ritrovarsi con tutti e quattro gli arti paralizzati. Da lì il calvario. Prima la corsa al pronto soccorso e poi la risposta alla diagnosi che ha confermato la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che danneggia i nervi che connettono il sistema nervoso centrale con il resto dell'organismo. In poche parole c'è il serio rischio di paralisi permanente. Una lotta per la sopravvivenza che ha visto accendersi da quando, nel settembre dello stesso anno, Giuseppe ha avarcato la porta della struttura riabilitativa Santo Stefano di Villa Fastigi, gruppo COS. Un percorso intenso di sei mesi che miracolosamente, grazie alla fisioterapia, gli ha permesso di tornare quasi completamente alla vita di tutti i giorni. Quella volta ero ricoverato in terapia intensiva, quindi ancora sono stato pure in coma. Dopo ho chiesto un centro di riabilitazione e ho scelto Santo Stefano, dove mi sono trovato benissimo. Tutto lo staff, sia medico, sia delle OSS, sia delle fisioterapiste, che mi sono stato sempre a fianco e mi hanno portato fino alla guarigione. Il mio pensiero era di rimanere sulla sede a rotelle e quindi non accettavo quel tipo di vita. Poi, piano piano, tramite mia moglie e mia figlia, ho iniziato a reagire e di là, con tenace e forza, sono riuscito a ottenere la guarigione. È stato, secondo me, pure, io credo un po', è stato pure un mezzo miracolo. Comunque, adesso sono rispondato al 90% della vita normale, direi quasi 100%. E quindi vado in bici, ora devo solo iniziare a fare delle corsettine, quando inizierò a ottobre, piano piano, riuscendo il mio sogno di fare una corsa podistica. Giulia Baglioni e Pamela Diottalevi, le due fisioterapiste che hanno seguito giorno dopo giorno la rinascita di Giuseppe, da lui definite come gli angeli che gli hanno salvato la vita. Il paziente, quando è arrivato, era attaccato a un ventilatore e non muoveva quasi niente. Quindi è stato un approccio multidisciplinare, perché abbiamo lavorato sia noi a livello motorio e respiratorio, ma anche come le logopediste che sono riuscite a fare uno svezzamento dalla canula e piano piano ho ricominciato anche con la nutrizione, perché all'inizio era attaccato con il sondino. Piano piano, quindi, siamo riusciti a incrementare la forza, ad avere un controllo del tronco, la deambulazione, la stazione retta e anche la sensibilità che mancava praticamente agli arti inferiori e anche adesso mi dice che non è proprio perfetta, però dai, è stato un bel risultato e siamo contenti. Un percorso reso possibile grazie al completo servizio che può offrire la struttura riabilitativa Santo Stefano. Questo tipo di struttura offre assistenza a pazienti particolarmente gravi, quindi stati di coma, post-acuti, neurologici, comunque gravi patologie, che, come nel caso del Signore, necessitano di una assistenza multidisciplinare. Per cui ritengo che il risultato ottenuto sul paziente è proprio frutto del lavoro multidisciplinare dell'equipe che è attiva all'interno della struttura.